Voglio leggerti una citazione di Simon Sinek, che ha cambiato la storia del marketing. Le persone non comprano quello che fai, comprano perché lo fai. Forse il suo nome non ti dice nulla, ma probabilmente conoscerai la sua faccia. Sinek ha ottenuto un intervento al TED del 2011, che è il terzo più visto di sempre sul web. Il suo speech è diventato virale e non stupisce, dato il valore rivoluzionario delle sue idee. Io sono Enza Lafrazia e ti guiderò in questo flash sulla comunicazione e sul marketing. Ecco i punti salienti dell'idea di Sinek. Per ispirare e per avere successo nella propria comunicazione, nel marketing, si deve partire dal perché. Il perché è l'identità primaria di un'organizzazione e, in un certo senso, il suo valore fondante. Invece, nel marketing, molti professionisti partono dal che cosa? Produciamo questo prodotto, questo servizio. Oppure dal come? Operiamo con professionalità, con esperienza. La chiave del successo della comunicazione è, appunto, partire dal perché produciamo questo prodotto e perché abbiamo scelto di adottare questa professionalità. In parole povere, qual è il nocciolo di questa azienda? Per comprendere meglio questa idea, nel suo libro Partire dal perché, un titolo che è già tutto un programma, Sinek racconta la storia del team di grandi professionisti che inventò l'aereo. No, non si tratta dei fratelli Wright. Sto parlando di Samuel Langley, stimato astronomo, presidente dello Smithsonian Institution e ex professore di Harvard. Langley, grazie a conoscenze molto altolocate ed importanti, era riuscito a farsi dare un cospicco finanziamento ed aveva messo al libro paga le migliori menti della sua epoca per costruire il primo mezzo volante della storia. E ci riuscì. Il 6 maggio 1896, il suo prototipo di aeroplano decollò per il primo volo della storia. Qualche anno dopo, ci riuscirono anche Wilbur e Orville Wright, due costruttori di biciclette di un paesello dell'Ohio. La loro conoscenza più in alto era il pastore della loro parrocchia. Erano semi autodidatti e non erano neanche diplomati, ma soprattutto non avevano il becco di un quattrino. Tuttavia, la loro passione, le loro idee rivoluzionarie, il loro grande obiettivo ispirò un gruppo di appassionati che misero a disposizione i mezzi per incominciare. Il 17 dicembre 1903, quasi sette anni dopo Langley, anche il mezzo volante dei Wright si liberò nell'aria. Come andò a finire? Langley abbandonò l'impresa e venne ricordato più per i suoi fallimenti che per i suoi successi. I Wright proseguirono e perfezionarono la loro invenzione e sono ricordati ancora oggi come gli inventori dell'aeroplano. In confronto a Langley, i Wright erano dei poveracci. Ma il loro perché, la loro capacità di ispirare e comunicare, è stata la loro ricchezza. Per approfondimenti sul digital marketing e sulla comunicazione online, segui il mio blog www.ensalafrazia.it Al prossimo Marketing Flash!